Oscar Pistorius non affronterà un nuovo processo. Un tribunale di Pretoria ha respinto la richiesta della pubblica accusa di presentare appello contro la condanna a sei anni di carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata, Riva Stinkamp. Il procuratore, Jerry Neal, l'ha definita mite in maniera scioccante e inappropriata e potrebbe ora decidere di rivolgersi alla Suprema Corte d'Appello. L'accusa basa la sua richiesta sul fatto che gli anni di condanna siano meno della metà del minimo della pena prevista per omicidio volontario e un solo anno in più rispetto alla prima condanna per omicidio colposo. L'ex atleta 29enne uccise la fidanzata la notte del 14 febbraio 2013 sparando in casa sua dei colpi di pistola attraverso la porta del bagno. Ha sempre detto di aver agito, convinto di sparare contro un ladro. Pistorius viene sorvegliato in cella 24 ore su 24 dopo un presunto tentativo di suicidio che lui nega.